E torniamo in diretta, abbiamo salutato la signora Bilardo, adesso siamo nel reparto medico, parliamo di medicina, vedete gli strumenti del medico, il fonendoscopio, le pillole, siringhe e una forbice. Di che cosa parliamo oggi? Beh c'è un argomento che è di grande attualità. Ne sentirete parlare ma io ve ne faccio un'anticipazione. Ed è il microbiota della pelle o dermobiota. Che cos'è questo dermobiota? La pelle è la superficie più ampia del nostro corpo. Pensate, sono circa due metri e qualche centimetro quadrato. Ci ricopre, ci protegge, ci mette in comunicazione con l'ambiente esterno ed è, pensate, è difficile da capire ma è così, è un'espansione del cervello. Durante l'embriogenesi, cioè durante la creazione dell'essere umano, ci sono tre punti di partenza. C'è la parte più esterna che è quella che dà origine al sistema nervoso. La parte centrale che dà origine ai visceri e poi c'è la parte che dà origine all'apparato di locomozione, cioè le ossa, eccetera. Invece la pelle prende origine proprio dalla parte più interessante del sistema nervoso. E perché? Perché contiene delle terminazioni nervose che ci danno la sensazione del caldo e del freddo, ci danno la sensazione del tatto, ci danno la sensazione del del senso del mondo che ci circonda. E la pelle contiene delle ghiandole che sono le ghiandole sudoripare che quando funzionano emettono un liquido che si chiama sudore e il liquido evaporando fa raffreddare la nostra superficie. Quindi quando sentiamo molto caldo e sudiamo lo facciamo perché favorendo l'evaporazione la nostra temperatura si abbassa. Invece quando fa freddo la nostra pelle reagisce con l'erezione dei peli che si trovano dentro ai follicoli e questo rappresenta quando si dice mi si rizzano i peli e perché o siamo spaventati o abbiamo freddo e quando abbiamo freddo noi tremiamo perché tremando è una specie di azione muscolare. Quando è che noi sentiamo freddo, siamo fermi, cerchiamo di battere i piedi, di muoverci per riscaldarci, il nostro corpo ci aiuta facendoci tremare. Quindi la pelle è veramente interessante. Ma cosa è il microbiota della pelle o dermobiota? è l'insieme dei germi, dei virus e dei funghi che si trovano sulla pelle e nella pelle perché si trovano anche sotto la pelle e a che cosa servono questi microbi che sono miliardi e miliardi? Servono a regolare la pelle stessa aiutandola nel riconoscere le minacce e aiutandola a mantenere la sua regolarità. Cioè la pelle è quella che è ed è morbida, elastica, viva perché i microbi, i virus e i funghi li aiutano a mantenersi tale. E la cosa importante che dobbiamo tutti sapere è che per far bene a questi nostri amici invisibili noi dobbiamo tenere la pelle sempre idratata. Idratata vuol dire che deve mantenere una certa umidità e a questo ci pensano le ghiandole sudoripare che favoriscono la formazione di quest'acqua praticamente, qual è il sudore. Acqua che è ricca anche di cloruro di sodio, infatti il sudore è sempre un po' salato e contiene anche delle sostanze che rappresentano la eliminazione di tossine e veleni che noi abbiamo dentro. Noi siamo fatti di cellule. Fra le cellule c'è un liquido, il liquido che attorni alle cellule serve per portare loro da mangiare, ma contemporaneamente rappresenta il modo, il mezzo con il quale le cellule si liberano delle loro scorie e quindi c'è un ricambio continuo che avviene non soltanto con il sudore ma anche con il sistema linfatico. Però la qualità del liquido che ci ricopre, che è sempre una commistione di acqua e di grasso, cioè un film idrolipidico nel quale prosperano questi nostri amici germi e che ci aiutano a mantenere la pelle in equilibrio con l'interno e con l'esterno. E' una cosa meravigliosa che attualmente sta interessando parecchio, indovinate chi? Le industrie della dermocosmetica, perché chi vende le creme e tutto quello che si fa per mantenerci belli è molto interessato a questa ricerca. e nel Wisconsin, nel Massachusetts e anche in Germania ci sono degli istituti collegati con le università che stanno studiando delle sostanze utili a mantenere il microbiota, cioè non più creme, terre e una specie di BH che viene applicata sulla pelle per mascherare i difetti. invece sono dei veri e propri farmaci che servono ad aiutare la pelle ad essere quella che è, cioè qualcosa che si rigenera e si protegge da sola, perché vedete la pelle è un organo vero e proprio che si rinnova ogni giorno. Ciascuna delle cellule che ricoprono il nostro corpo, che sono cellule dell'epidermide, viene costantemente rinnovata perché le più superficiali cadono, desquavano. tutti sanno che la bronzatura non dura molto perché le cellule che sono colorate dalla melanina cadono e vengono sostituite da cellule che vengono dalla profondità che hanno il colore della nostra pelle. quindi il rinnovamento delle cellule dell'epidermide viene tenuto sotto controllo e favorito o anche disturbato dalla presenza di germi che sono sulla nostra pelle. La conservazione del microbiota, la protezione del microbiota tramite opportuni apporti di farmaci che stanno per essere programmati e scoperti, studiati, è il futuro della dermocosmetica. Non più coprire ma invece esaltare quello che è la proprietà della pelle di mantenersi sana e bella. Quindi non copriremo più. Pensate che leggevo a proposito di questo che un tempo le donne del Medioevo e anche un po' più avanti del Medioevo, per esaltare la loro bellezza, si coprivano il volto con una sostanza che lo imbiancava, una specie di biacca si chiamava. Questa sostanza però era fatta con dei derivati del piombo. Quindi piano piano queste persone si avvelenavano perché l'avvelenamento da piombo è molto grave, lo sapevano bene quelli che una volta lavoravano nelle tipografie e per essere più bianche diventavano sempre più malate morendo poi per essere bella. La morte ti fa bella, è il titolo di un film molto carino, è la storia dell'avvelenamento da cosmetici risale al Medioevo, ve l'ho raccontata così perché voi sapete che una volta l'essere abbronzati, adesso bisogna essere abbronzati. Ci sono miriadi di centri estetici che forniscono i raggi ultravioletti per favorire l'abbronzatura. Una volta essere abbronzati era un segno di povertà perché chi è che si abbronzava? Quelli che lavoravano nei campi, la gleba, i servi della gleba, quindi le persone nobili, anche quelle un po' meno nobili, ci tenevano a non abbronzarsi per far capire a chi li guardava che loro non lavoravano nei campi, stavano negli uffici o anche stavano a casa senza far niente. Quindi c'è un film, anzi un romanzo famoso che è Via col vento, nel quale la mamì, mamì, la serva negra, dice a Rossella O'Hara, mi raccomando, metti il cappello quando esci per andare a fare la passeggiata perché altrimenti ti abbronzi, perché bisognava essere bianchi. Erano i tempi in cui c'era l'apartheid, i negri erano gli schiavi, i nobili erano i bianchi e quindi Rossella O'Hara, consigliata dalla stessa sua mamì che era negra, doveva mantenere il bianco. Invece oggi sarà bene che noi ci esponiamo alla luce del sole perché la luce del sole con i suoi raggi ultravioletti attiva nella pelle, e questa è una delle importantissime funzioni della nostra epidemia, attiva la vitamina D. La vitamina D che è indispensabile per la fissazione del calcio nelle ossa ed è utile per una miriade di altri scopi perché i livelli di vitamina D che adesso si è imparato a misurare per poter migliorare la situazione devono essere costanti e ricordiamoci che la vitamina D è un farmaco e come diceva Ippocrate, contemporaneamente anche un veleno. Ippocrate diceva farmaca et velena sunt, cioè i farmaci e i veleni sono la stessa cosa, sono praticamente i due lati della... Abbiamo messo il numero da chiamare, Davide? Ah ecco, ecco sì, perché se la gente chiama e vuole maggiori informazioni, noi siamo qua ancora per 10 minuti perché dopo la trasmissione terminerà e ci vedremo giovedì prossimo. Quindi ripeto, la vitamina D non deve essere presa in eccesso perché è anche un veleno. Quando viene presa in quantità eccessive, nella speranza di fare meglio invece che accontentarsi di quello che normalmente dobbiamo avere, noi ci facciamo del male. Quindi attenzione con gli integratori e soprattutto con la vitamina D perché anche la vitamina C che è quella che è stata scoperta da Linus Pauling che la prendeva a tonnellate e che invece poi è morto di cancro, poveretto anche lui. La vitamina C se voi la prendete in eccesso finisce nelle urine perché noi possiamo assorbire quel quantitativo di vitamina C e non di più quella che ci serve. l'altra la eliminiamo e la eliminiamo attraverso le urine, così come il calcio. E se noi eccediamo col calcio e con la vitamina C questo finisce nelle urine, aumenta la concentrazione del calcio nelle urine e può provocare la calcolosi. Quindi attenzione anche con la vitamina C, col calcio e con la vitamina D. Io penso di avere parlato abbastanza, senza di avervi dato delle informazioni utili e perciò se nessuno ci chiama e nessuno ci chiede maggiori informazioni, chiudiamo qui, ce ne andiamo e ci vediamo giovedì prossimo.